Il reggio del bergamotto è anche moda? Sì, perché il bergamotto è moda, il bergamotto è presente in tutta la moda internazionale attraverso non solo i profumi, la cosmesi, ma ci sono tanti accessori che vengono realizzati con la buccia del bergamotto e quindi questa è un'occasione importante per Reggio Calabria, infatti è la prima iniziativa dedicata a Gianni Versace che è stato veramente un personaggio amato e ben voluto in tutto il mondo, speriamo lo diventi anche a Reggio perché Reggio Calabria ha bisogno di questi personaggi da portare a testimonianza ai nostri giovani che non hanno avuto il piacere di conoscerlo e quindi attraverso questo evento dedicato a Gianni Versace con il maestro Gerardo Sacco e le varie associazioni che hanno aderito a questa iniziativa parleremo delle cose belle di Reggio Calabria, della nostra provincia e tra la moda e tra le bellezze di questa nostra città metropolitana non possiamo dimenticarci di parlare di bergamotto, infatti siamo qui al museo del bergamotto con questa sfilata che avrà sicuramente modo di farsi notare non solo sui social ma anche sulla stampa. Una manifestazione di spessore per ricordare Gianni Versace qui al museo del bergamotto tra cucina, bergamotto e arte, questo connubio. Sposiamo le nostre ricchezze, le ricchezze che la nostra città e il nostro territorio ci hanno dato un grande artista come Gianni Versace riconosciuto a livello internazionale nel suo settantesimo anno di età quindi questa serie di manifestazioni per ricordare questo nostro genio non potevano che culminare con una sfilata di moda da lui dedicata. Numerose le accademie e gli stilisti di moda che hanno voluto omaggiarlo siamo qua per questo accogliamo il maestro Gerardo Sacco, suo amico d'infanzia, abbiamo esposto alcuni abiti originali di Gianni Versace verso la città metropolitana e è stato un evento di successo e di dedito al nostro grande genio. Un evento firmato dalla città metropolitana per ricordare un grande Gianni Versace nel museo del bergamotto tra degustazione di bergamotto e arte e moda. Sì, diciamo che c'è un po' tutto, un bel mix in omaggio a Gianni Versace diciamo che forse troppo poco ancora abbiamo valorizzato la sua memoria e quello che ha fatto per il nostro territorio e questo vuole essere soltanto un primo segnale, uno dei segnali che anche come ente, come città metropolitana abbiamo voluto dare patrocinando questa importante iniziativa con Passpartout che è tra le associazioni insieme al museo del bergamotto che ci troviamo in questa splendida location che abbiamo voluto ospitare stasera a uno degli eventi che è quello appunto di una sfilata di moda provandola appunto a ripercorrere anche alcuni momenti che Gianni Versace appunto ci ha tramandato insieme a Donatella e insieme a Santo e vuole essere non soltanto un omaggio non vuole essere soltanto il ricordo di un uomo speciale ma vorremmo provare a costruire un qualcosa di diverso anche rispetto al passato e per farlo ovviamente abbiamo bisogno anche di momenti come questi di sana cultura non soltanto sotto l'aspetto della moda ma anche provando a come diceva lei conurbare i sapori del bergamotto con la moda, con l'alta moda e appunto con tanta cultura ma non è che una novità però è una stasera c'è l'eccezionalità perché qui alle mie spalle c'è un immortale e appunto come Gianni Versace proprio adesso sto venendo dal salone dove una signora mi ha ricordato che al Circo della Stampa 30 anni fa mi hanno dato il premio perché era il peso dell'anno e un anno dopo l'hanno dato a un certo Turbecco, un altro a Gianni Versace proprio quindi devo dire che hanno avuto fiducia di un artigiano ai primi passi e essere accumulata, addirittura ha vinto il Nobel come Turbecco e poi un artista che era ormai conclarato già a livello internazionale non mi resta che dire grazie veramente e cercare di dare sempre il meglio che questa terra ci regala